Ciao a tutti e benvenuti alla nostra sessione di Question & Answer. Qualche settimana fa la nostra social media specialist ha aperto un format sul nostro canale Instagram e abbiamo raccolto le vostre domande. Da ora in poi, ogni mese, ci occuperemo di rispondere alle vostre curiosità spaziali. Per questa sessione abbiamo raccolto le domande che riguardano DART, una missione di difesa interplanetaria. A tal proposito sarò proprio io a rispondere alle vostre domande. Mi presento, sono Simone, un ingegnere dell'unità satellite di ArgoTec. Scopriamo le vostre curiosità spaziali. Partiamo da questa domanda. Parteciperete alla missione DART di NASA con il satellite Licia Cube? Cosa prevede la missione? Di cosa si occuperà Licia Cube? La missione DART di NASA verrà lanciata nel 2021 e avrà il compito di deflettere l'orbita dell'asteroide di Demos B attraverso l'impatto della stessa sonda sulla superficie dell'asteroide, a una velocità di circa 21.000 km orari e a una distanza di circa 10 milioni di km dalla Terra. Il nostro satellite Licia Cube, realizzato in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Italiana e selezionato dalla NASA per tale missione, verrà rilasciato pochi giorni prima dell'impatto e sarà equipaggiato con due ottiche che serviranno a fotografare l'impatto di DART sull'asteroide e a documentare la generazione dei detriti a seguito della collisione. I dati acquisiti verranno poi utilizzati dalla comunità scientifica al fine di valutare l'effettiva capacità di un satellite di deviare l'orbita di un asteroide. Passiamo alla prossima domanda. Esiste un pericolo imminente con asteroide e impatti contro la Terra? Non esiste un pericolo imminente con asteroide e impatti con la Terra. Ad ogni modo le agenzie tengono d'occhio gli asteroidi. Siamo molto fieri e orgogliosi di partecipare alla missione DART perché rappresenta il primo passo verso una nuova modalità di difesa planetaria. La nostra sessione di question e answer per oggi finisce qui. Seguici sui social e se hai una domanda da porci, scrivila. Ti risponderemo nel prossimo video. Ciao!